Il mio elefantino rosa, delle tette, dice... The Floreslava! Ragazzi, attelliamo come dei deficienti! Non mi hanno peccato! Ho capito perché qualcuno si appropria delle mie tette Ho capito perché mi hanno mandato di mettere via la videocamera Sono un lago Ma sapete qual è la cosa che in realtà fa più ridere? Che praticamente Sasha mi ha detto Amore, mettiti tu davanti, io ti sto dietro Poi dopo che ho preso tutte le varie schizzate acqua in faccia Mi ha detto Eh no, perché la tizia ha detto che si bagnava di più quella davanti Ti amo anch'io Vi voglio molto bene ma state lontane Dal colore delle vostre bagliate Ciao, ciao! Cos'è che vuoi? Voglio sposarti Anche a Mirabilandia matrimoni Non ha l'anello, me lo disegna Grandissimo Lo faccio con un cuore al centro Con chi sono sposata? Sono tua moglie di Pescara, ricorda Ciao, moglie di Pescara Ragazzi, siamo completamente lavati Perché tipo abbiamo i cannoni Ecco, guardate come spara L'ho detto, lo fate via la videocamera L'ho detto via, raga! Amore, strizza la maglia Alzate le mani, ci arrendiamo Segno di resa No, raga, qua è tutto... Guardate, Sasha, quant'acqua beve! Occhio al testo, tra poco prendiamo una cravata Segno di resa ragazzi, avete vinto voi? Basta, basta, lavati Ancora, bambini ricominciano Cosa fai? Guarda che cosa faccio Guarda che cosa faccio Vedete, come vedete, la testa ai piedi È a niente Allocinante Siamo completamente Amore e fatici Raga, allora vabbè Altra litigata Perché tipo C'era una fila diversa Per fare quello col VR E col Fast Pass Tipo, vabbè, lasciamo stare Amore Ma la cosa divertente è stata Che uno dall'alto vede Pietro e fa Oh, l'amico di FabiJ No, ragazzi, stavo morendo Finalmente ha riconosciuto anche Pietro Come l'amico di FabiJ Non è colpa mia, eh? Ciao 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 Sasha vuole andare sull'iSpeed Spiega qual è Quello veloce Quello veloce Quello che tipo in due secondi Va a 2,2 secondi Va a 100 all'ora Ti fai male E devo provare a riuscire a portarsi la videocamera E che schifo E non so come farò Tipo, la nasconderò Forse nelle mutande E vedremo se compirò questa impresa Era talmente veloce Che tipo Mi si è stoppata la videocamera da sola Cioè l'ho fatta partire Ma si è stoppata Cioè incredibile Raga Sta per venire giù il mondo Voi non potete vederlo Perché è sempre in videocamera Sembra bello Qua è nero Infatti tutta la gente sta per scappare E in tutto questo Io ho preso il mio spiedino Non è per me Chi me l'ha comprato? Ah non lo so amore Non l'ho comprato io No dai amore Non faccio blocchi No 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 blocchi Sei un materassino Non lo sono Blocchi 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 Il mio elefantino rosa Delle tette Dice De Florislava Ma così ti frutti le scarpe Siete morti Siete morti Cioè è per fare De Florislava Ho messo le tette nell'accelera C'è una puzza Che esce da qua Vero mamma? Sì è vero è vero È lei i testimoni Spiacenti Siamo chiusi Ma Toc toc Sei aperto per me Per me Mi dispiace Cinque euro No De Florislava Non si raffano Ragazzi attegliamo come dei deficienti Yeah Fate anche Yeah 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 Io mando tutti a fare la fila Perché ho il pass pass ed è chiuso per me al tempo Rido troppo Guardate adesso come tornano piangendo Torneranno piangendo tutti È chiuso lo so Ok hanno riaperto il katun Se me fa molto freddo Mi sono comprata la felpina Adesso ho mandato tutti i fan in fila Perché noi abbiamo il pasto Quello per fare in fretta E andiamo a vedere Che cosa combiniamo sul katun Io e il fan Guarda che cosa ho comprato con i tuoi due euro Ho sesso a forma di cuore Per me Grazie amore facciamo vinta che i due euro erano tuoi Così era un regalo al cento per cento tuo Ti amo Non sta a saper ma di cuore per me Vedete che mi pensa Non è vero che mi tratta male come dite voi Lo fa per scherzare Vero? Sì Mamma mi ama tanto Bravo Mario Così si fa In fila si fanno i massaggi Allora Natun con i fan Siamo con Mario Poi chi c'è? Laura Laura Elena E poi anche dietro Ciao raga Ci vola Pronti raga? Ciao 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 수가 Musica 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 Bellissimo Ma sono dentro Buon Bracca In pratica è successo che nell'ultima giostra Mi hanno detto lei è talmente carina Che ha vinto una borraccia di pop corn Pop porn Sì a scusa Lei è talmente carina che ha vinto una borraccia di pop porn Comprata Non è vero Si va avanti dello scontrino L'ho vinta Vero che l'ho vinta Scusa, vero che l'ho vinta e non l'ho comprata Vero che la borraccia L'ho vinta e non l'ho comprata Vedi, l'ha detto lui, quindi l'ho vinta Non so cosa si può fare, ma io l'ho sempre voluto fare Amore, cosa stai facendo? Amore, esci Esci, amore, esci No, arriva l'amore, ti arrestano Vengo niente Allora, abbiamo i miei tre uomini che proveranno a vincermi Non la ciambella a sto giro, ma gli unicorni Sasha fa un tiro di prova per capire un po' come va E fa schifo Vai amore, ma perché ti riacca? Ah, è vero che tu hai la tecnica Vediamo se vi vincerà un unicorno di cioccolata Per me no, ma proprio no Per me ce l'ha fatto Avete questo e più altri tre palloni dopo Qualcuno di voi me lo farà Pietro, no, da sotto piedi, da sotto Let's get ready to rumble Non ci credo Non ci credo E Pietro è il mio vincitore Mettete un like per Pietro Iscrivetevi al suo canale Se no non l'avrei detto L'ha fatto solo perché amico di Fabi J Mettete il canale di Pietro in descrizione Ricordatevi che lui è l'amico di Fabi J E quindi c'è il tega E ragazzi, Pietro mi vince l'unicorno di cioccolata Ma in realtà tua cosa? È mio Ecco il mio unicorno È morbidoso È super morbidoso È mio Grazie Pietro Andiamo al prossimo gioco Ed ora mio amore mi vuole vincere Minion salvagente tirando nella porta Vi fare tipo determinati punti vi faccio vedere In base a dove tira, vedete, prenderà un punteggio Se lui fa almeno 170 punti prende un pupazzo 200 quello che vuoi e poi vediamo 80 amore Quasi amore Volevi cederlo Cere Amore volevi cederlo Se era una crossbar vincevi Primo tiro di Sasha 100 punti Amore basta Un 80 o un 100 80 o 100 E sei il campione di Mirabilandia Ma no Il problema è che ha preso me La palla rimbalzata ha preso me Prende l'ultimo Oh però lo miro l'incrocio Amore No Cere ha preso 100 Gli ha fatto 0 Ah Cere Primo tiro 100 Sei sfocato Cere Non vuole metterti a fuoco Primo 100 E andiamo col secondo Vediamo dove colpirà 100 100 No raga voglio farvi vedere sti bimbi Che numeri che fanno Ciao Sauri Cioè no voglio farvi vedere cosa siete bravi Raga vi metto nel vlog Fatevi vedere cosa siete capaci Ma siete delle bestie Ciao amore Mamma mia sei fantastico Ma guardate che numeri Tu cosa mi fai vedere Mamma mia che roba Avete un canale voi? Come vi chiamate su Instagram? Alessandro D'Abbarelli Io ho il canale di YouTube Però fa un po' scritto Come si chiama il tuo canale? E con il secondo refill di Poccorne La nostra giornata La nostra gita a Mirabilandia Termina qui E' stato bellissimo ragazzi Vi chiedo ancora scusa Se non ho potuto fare il raduno Ma vi ho spiegato quello che è successo I più hack up sono venuti lo stesso E una giostra Sono riuscita a farla con loro Come avete visto E' stato bellissimo incontrarvi A prescindere Perché comunque anche molti Che non sapevano che noi fossimo qui Sono venuti da noi Quindi ragazzi Io spero di vedervi tutti Il prima possibile Vi mando un bacio grande 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 E ci vediamo domani Con il prossimo video Mentre sono dei fan da lontano Che salutano Ciao Ciao piccoli